Presidente questa è una seduta di commiato di saluto relativo se vogliamo perché il lavoro continua beh sicuramente come abbiamo già affermato in conferenza stampa ieri il lavoro continua e non si interrompe Michele Estrianese al di là del professionista serio che è anche un uomo politico capace lo sta dimostrando come sindaco di San Valentino Torio è stato un consigliere provinciale con deleche importanti alle partecipate per cui già dimostrato in questi due anni il suo valore quindi si continua nella strada che già abbiamo abbiamo arato e quindi si continua il lavoro fino al 31 gennaio poi si rinnoverà il consiglio provinciale però il presidente Michele Estrianese a cui io gli do un grande in bocca al lupo e spero che sarà il presidente della provincia di Salerno continuerà nella scia di questi quattro anni quello che abbiamo già seminato. Qual è il fiore all'occhiello della gestione CAFRA e qual è il suo rammarico di questa gestione? Incomincio dal rammarico il rammarico che abbiamo fatto le nozze con i secchi. Ci siamo ritrovati in una situazione non determinata dalla governance di questa provincia ma determinata da leggi che definirei balorde. Non penso tanto all'impostazione della del Rio che fondamentalmente come area vasta è anche comprensibile ma penso invece alla legge di stabilità che ci ha letteralmente depredati dal 2014 in poi per cui governare una provincia con funzioni fondamentali quanto scuole e viabilità con pochissime economie certamente non è stato né semplice né difficile, non è semplice è molto difficile però poi vengo al fiore all'occhiello, il ripascimento, i corpi idrici superficiali, la cilentane che abbiamo riaperto, il recupero grazie al governatore De Luca delle economie sulla spesa di accelerazione lì si rischiavano un buchi in bilancio per tantissimi comuni invece si è riusciti a recuperare quell'economia, un lavoro eccezionale. Sono fiero dei comparti idrici superficiali ma di tanti altri lavori però certi comparti idrici superficiali sapere che oggi su otto comparti cinque sono iniziati i lavori e gli altri tre stanno per iniziare credo che sia il risultato più brillante di questi quattro anni. Sì da Costanziola un'annata diremo ancora una volta d'oro per il centro da Palinuri, il turismo insomma voglio dire fa registrare numeri importanti come al solito. Beh intanto ringraziamo anche il tempo che ci ha accompagnato che supportato da quella che è stata una progettualità messa in campo dall'amministrazione di cui ho l'onore di rappresentare e di presidere abbiamo avuto davvero grosse soddisfazioni quest'estate che partendo da giugno c'è stato un leggero calo la prima settimana di luglio però poi si è recuperato di gran lunga a settembre in particolare. Ottobre ancora oggi fino a ieri c'è stato chi ha fatto il bagno quindi questo depone bene noi come amministrazione stiamo investendo molto in quello che è l'accoglienza quello che è l'ospitalità e quindi è giusto dare ad una località rinomata come Palinuro quelli che sono gli appelli importanti e fondamentali. Quest'anno abbiamo avuto anche il piacere di ospitare la fermata di Frecciarossa quindi un grande risultato. Siamo stati dopo Sabre che è la parte terminale del progetto di Frecciarossa siamo stati quelli che hanno ottenuto maggiori presenze con circa 5.000 presenze nonostante non fosse stato inserito sin dall'inizio. Quindi Palinuro che ritorna nel ruolo che gli compete, quella della rinomata località turistica non solo della provincia di Salerno ma io dico dell'intera regione campania e forse anche a livello nazionale perché ha delle caratteristiche, delle peculiarità. Ricordiamo che oltre a Palinuro con le sue belle spiagge il Comune di Centro su cui abbiamo investito tantissimo in quella che è anche la ricettività. Sono sorti in questi 3-4 anni oltre 100 bende breakfast all'interno delle frazioni quindi anche questo dimostra l'impegno e la disponibilità e l'investimento in quello che è il discorso di ospitalità. Per cui in crescendo e noi come amministrazione non facciamo altro che continuare a sopportare quello che è il discorso legato al turismo. Pasquale Sorrentino, il Comune di San Giovanni a Piro ha un grande evento collegato anche con Matera Capitale della Cultura 2019, un bel evento veramente di alto spessore. Sì, da Salerno noi celebriamo da Salerno a San Giovanni a Piro una stagione turistica che dura 365 giorni. Semplicemente perché con la città capitale europea della cultura 2019 Matera condividiamo la figura e la presenza del grande pintor José Ortega, il pittore di denuncia sociale allievo amico di Picasso che ha soggiornato per 20 anni tra Bosco e Matera. Questa iniziativa si colloca in un ampio programma che inizia col grande evento equinozio d'autunno che ormai dura veramente nell'arco di un anno, si distribuisce equamente per tutto l'anno. La cosa importante è che è la stagione museale che si è già aperta, quella invernale, dopo aver registrato per quella estiva un incremento di oltre il 30%. C'è da dire come inversione di tendenza rispetto ad alcune errate convinzioni che il turismo culturale può davvero fare la differenza. La fa la differenza perché è un turismo impegnato, è un turismo in cui il visitatore è alla ricerca di quella che è la propria radice cosmica che con Ortega si coniuga alla grande, semplicemente perché parliamo di un esploratore, di un amante della bellezza, del colore e di uno che qualche tempo fa ha celebrato il Mediterraneo, quel Mediterraneo che oggi viene maltrattato e viene utilizzato come sfondo di conflitto politico, quello che invece è una grande crocevia di popoli e di culture. Grazie.